tipo fino a un mese fa bevo l'acqua frizzante ora sto bevendo l'acqua naturale perché purtroppo mi si gonfiava lo stomaco e tipo vedevo vedevo tipo le mie budella che uscivano quasi dallo stomaco e quindi questa immagine non mi piaceva e rubino bannate ma metriche no rubino cosa hai visto bannate ma metriche no rubino david rubino il mio canale sono un coglione no però adesso natalia delle amiche delle amiche sessuali ok a libera interpretazione ridere che la mia ex ragazza per cui mi faceva molto ridere che una delle persone che seguivo tanto ci provasse con la tua ex divertente divertente poi è niente per cui ho vinto io il pip su che cazzo via prossimo di socio dalla necrofilia la necrofilia in diretta della foto e guarda donna rumma secondo me è bravissimo però andano vice fra e sembra sempre che contro lui ci deve dare la merda cioè diventa noier quando c'è dentro lui si giocavamo linda non ce ne frega un cazzo come scusami che cos'è che sei tu porco dio interista interista ma chi è che c'è l'interista qua però è interista il ghebrone e tu rubino sei romanista da roma pareggiato per bene morta rega io stasera ho perso con l'atalanta vabbè rasconta l'atalanta troppo sgrofa mamma mia un po di brillantezza trasparente un po di show giusto da tanto che non ti vedevo così sempre bello a vederti in questo stato giusto giusto ogni tanto è data voleva entrare no vorrei vederti ancora meglio scusami vabbè metterò se posso è uno mio lasci tua accenda la luce ma 2 stagazzo del serie de merda taci tua ogni tanto è data volevo entrare ho detto ho visto al mio sol 2 o al mio sol 3 questa era bella io so più da bubo e scusa mi sta simpatica non mi può stare simpatico una ragazza porco di pensavo fosse un altro il tentativo non è che siamo tutti fatti come te prima abbiamo fatto una domanda linda prima scusa mi abbiamo fatto una domanda linda che vorrei fare un piccolo comeback al passato ho chiesto insomma se bomberebbe ok rubino sei tre come col che ha preso il milano oggi non è milanista natalia simpatica non so che non è milanista viena erano sperimenti a far mettere le corna dai 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 vabbè vabbè non è che posso lei può insultare io insultiamo col pari diritti che non me ne è giusto allora va ti a fare neanche il mio a far mettere le corna Vabbè, ok Vabbè, un po' sul personale, Omi Un po' esagerato Eppure tu, Violet? No, ho detto che era vero Io viro Massai e Natalia Se voglio andare nel live E vado nel live Non sei tu che mi giudichi Non sei mia madre Ok, ok Era Valente? No, no, è Simone Panetti Un grande Un saluto Va bene, va bene Chi è che vuole essere il prossimo a raccontare la storia? Se vuole essere Massai Una persona non noiosa, per favore No, io andrei su un gabrone Che è bello addormentato Lo seguiamo Sì, esatto, così almeno Posso spezzare una lancia a favore del gabrone Io il gabrone, porco Dio Ci ha buttato giù dal letto in greco per commentare Che è il Goblin 3, derby Io maschio Simone? Allora, allora non si può Allora non si può Perché no? Vabbè, cosa sapevo? Mio figlio lo chiamo Simone No, non che... No Niente 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 No, niente C'è una persona Eh, facciamo l'entrata Sono molto stanco Eh, facciamo l'entrata Sono molto stanco Eh, facciamo l'entrata Ma... Ma solo io sento male o... No, no, no Pigna, hai qualcosa da dire? Ma, di base sì Ciao Adoro Sei un'amica di Barbara Marrocco? Amica non propriamente Cioè, ci conosciamo su Instagram Piccolo dissing a Barbara Mi spiace Barbara Perché? Beh, insomma Ma qui? È lì? È lì con te? No, non credo Però... Perché? Beh, se vedrà questa clip un giorno Penserà che tu non sia una sua amica No, beh, ma non ci conosciamo Non ci si è mai vista Le stai dicendo che non è una persona valida? Cioè, un parere a caldo su Barbarella No, ma tra l'altro Posso dire che mi farebbe un sacco piacere conoscerla Però avrei paura di avvicinarmi a lei Perché? Cioè, avrei paura che lei Potrebbe pensare magari che io mi voglio avvicinare Solo per followers e quant'altro Questo sì Posso dire questa cosa Beh, diciamo che dicendolo Forse hai delineato un aspetto Che magari non sarebbe venuto fuori Oh, chiacca per la porta Me ne sono andato sbattendo la porta No, non ho sbattuto la porta Però me ne sono andato un pochettino A me ne ho detto poi Questa è la classica storia di Gab Secondo me è vera Cioè, proprio sguovito Ah, proprio da sfigato, grazie No, nel senso Perché ogni tanto racconti qualcosa Ok Ma l'antipat ha più scritto poi? No Cioè, in verità io ero un po' su di giri Ero un po' su di giri L'ho scritto appena uscito di casa E però poi non ci siamo più riscritti Vabbè, io poi Diciamo i voti, dai Ok E tu? Secondo te? Quanti anni ho? Eeeh Beh, dai, 18 No 17, sì, dai No 16 Beh, dai, ci avviciniamo ai 15 Sì, mi arrendo Porco di cazzo Complimenti, guarda Ti auguro il meglio Veramente Wow Tutta la mia vita Ecco, è la tua Ciao Un po' come l'ha fatto Rubino Devo dire Se l'avesse fatto così Avrei proseguito Però Non l'ha fatto Ma invece il tono era Era tipo Era tipo Era veramente una Era tipo Uè 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 Era Era esattamente Uè Sì, esattamente Però era legata Quindi era così Uè E basta Uè Allora cosa succede Io A un certo punto Visto che vedo che lei prova piacere a essere A provare dolore Possiamo essere come due impavidi nelle nostre scelte Devi dire negro Mi dicono No Porco diaz Scusami Mi prendo le distanze massime E porco diaz Ciao E sta bello Eeeh Grazie, grazie Molto Non mi freghi Non mi freghi Brava 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 Complimenti Brava 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 Tanto non è rivolto a nessuno Vai Beh Stai bevando? No Guarda Sto 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 spaccando Una noce Scusa Vuoi dividere la tua acqua con ma? Così No Ce l'ho io Ce l'ho io Ce l'ho io Ce l'ho io Oh Natalia è sparita Allora Natalia bevi l'acqua Ti dico io come si Ti insegno io Il più fresco d'Italia Bevi l'acqua Aspetta Ah Quanto liquido Che stai bevendo Anche io un po' No No Che stai bevendo